ciao a tutti ragazzi eccoci qui in un nuovo video davide nico subito con il telefono in mano ma anche con questi ragazzi come vedete doppio acquisto ho acquistato ve lo faccio vedere un secondo magari c'è qualche fan anzi sicuramente c'è qualche fan di dan dog 35esimo anniversario con dentro l'edizione speciale del primo numero in ristampo ovviamente edizione a colori perché due direte voi perché uno lo apro così mi leggo il fumetto e mi leggerò mi rileggerò colori anche il primo numero e questo o questo adesso vediamo quale ha messo meglio lo tengo sigillato sealed che si sa mai in futuro che valga qualcosina ma comunque anche la collezione ragazzi di dan dog che io ho smesso di leggere tempo fa perché mi faceva un po schifo dopo gli ultimi cambiamenti non so se qualcuno di voi ha informato nel caso me lo scriva nei commenti però questi numeri appunto speciali li cerco di prendere sempre o quando perlomeno mi piacciono li acquisto senza nessun problema questo mi piaceva tanto ovviamente con la ristampa a colori di questo primo numero molto interessante ma basta perdere tempo perché adesso parliamo di pokemon go andiamo subito ad aprire gioco perché eccoci qui come vedete gioco aperto abbiamo subito un uno spazio pokemon pieno perfetto cancelliamo qualcosina vi faccio vedere anche le ultime catture come vedete eccolo qui pikachu esploratore possibile shiny io sono già a posto perché li ho già entrambi e vi faccio vedere il mio box pica eccoli qui esploratore ossia la femmina no non è questo ho sbagliato questo è con il cappellino di meloetta dove sono eccoli qui scusatemi ho il maschio pikachu con il cappello esploratore la femmina e anche il 100% ok mi ricordavo bene perfetto catturati nell'altro evento e forse nella reda nella spotlight hour se ben ricordo comunque io sono già a posto evento di questo segreti della no come era quello di zarude non mi ricordo più come si chiama qualcosa della giungla ragazza aiutatemi pokemon zarude i segreti della giungla ok mi ricordavo bene faccio questo video per potenziare oggi due pokemon tra l'altro sono in pausa pranzo quindi sto cercando di stringere il più possibile missione di zarude super facile ho visto e io sono già la terza fra poco catturerò già zarude comunque oltre a questo ragazzi le missioni sono molto interessanti quelle nei pokestop una tra tutte quelle di rafflet che si può trovare shiny chiaramente ed è cattura 10 specie di pokemon io stasera giocherò un pochino farò tutte quelle missioni cercando di trovare il secondo rafflet shiny perché uno l'ho già schiuso da uovo come potete ben vedere eccolo qui molto simpatico e quindi niente molto interessante e semplice da fare questo evento quindi andiamo appunto a giocarlo tanto ditemi voi cosa ne pensate secondo me è bellino e dura anche il giusto perché ci sta che duri così oltre a questo ragazzi andiamo al punto uno dei punti di questo video che avete già letto nel titolo oggi visto che è tornato genesec nei raid voglio andare a potenziare un pokemon anzi due pokemon che non ho potenziato in una precedente live uno di questi è eccolo qui il moltres 89 per cento ombra ovviamente che è un 10 15 15 diciamo non perfetto che ci punterebbe al 100 per cento anche ombra ma con 10 attacco il boost 20 per cento è sicuramente una bomba e le stati stieghi dietro al massimo veramente top ho fatto su le caramelle rare o la polvere che ho rifatto su dopo aver speso in un'altra live 35 si 35 ciao magari 3 milioni di polvere quindi senza perdere troppo tempo tra l'altro va anche a 3400 pl livello soffoco come in ogni video dicevo va a 3400 pl a livello 40 devo spendere 295 mila e qualcosa di polvere 342 caramelle rare potenzia sì senza pensarci due volte perché la mia squadra a fuoco non è carente ma comunque qualche aggiunta ogni tanto di questi pokemon veramente forti ci sta sempre rimuoviamo l'etichetta come si fa a rimuoverla così rimuove l'etichetta sima potenzia e oltre a lui voglio andare a potenziare oggi questo charizard che non so più dov'è facciamo le etichette che faccio prima charizard eccolo qui con turbo fuoco incendio 100 per cento ragazzi non l'avevo ancora potenziato ovviamente pokemon che andrò poi a mega evolvere magari prima di un raid di geneset tra l'altro geneset che ne farò veramente pochi perché non c'è shiny con questo primo modulo fa un po schifo ho visto gente che l'ha fatto addirittura in solo cioè assurdo e quindi ne farò uno giusto per registrarlo con il con il modulo blu e probabilmente ne farò altri raid con i giornalieri eccetera eccetera ma non geneset comunque dicevo potenziamo questo charizard che potremo poi andare a fare mega evolvere e ci darà una mano chiaramente nei raid cosa che non ho mai fatto prima potenziare un charizard 100 per cento quindi lo facciamo adesso potenzia sì vai ovviamente sempre il livello 40 ho scritto sì ho scritto no allora eccolo qua potenziato anche il charizard 100 per cento che poi andremo a fare mega evolvere oltre che ragazzi volevo andare a fare mega evolvere anche un charizard shiny che in realtà non ne ho di troppo forti ma allora no le etichette volevo fare vedere il charizard che probabilmente andrò a mega evolvere chari eccolo qui andrò probabilmente a fare mega evolvere nonostante sia da pvp questo che in realtà non è da pvp perché è un 10 14 13 io l'ho rinominato pvp perché lo utilizzo nei pvp anche se non ha le statistiche giuste perché le statistiche giuste per il pvp di charizard sono queste esattamente per la lega ultra e babando alle ciance mi sto vantando di me come al solito andrò a fare mega evolvere questo charizard prima o poi per registrare la mega evoluzione shiny all'interno del pokédex molto bello anche lui con la doppia mossa chiaramente avendolo utilizzato per i pvp nella lega premier lega ultra molto bello molto bello qui niente ragazzi vi ho raccontato un po quello che farò nei prossimi video probabilmente e adesso andiamo avanti perché la pausa pranzo ancora lunga devo mangiare e ho fame e ci rivediamo tra poco in questo video che andrò a catturare zarude perché è molto easy vai questa cosa ragazzi è molto divertente perché sono davanti a casa e storia ci stanno sulla macchina questo perché sono appena uscito da lavoro è iniziato il weekend a no domani devo andare ancora al lavoro comunque niente non voglio parlare di questo anche adesso ma parliamo di pokemon go ovviamente con il gioco aperto e vi spiego subito un trucchettino che ho utilizzato oggi avevo in mente questa cosa oggi l'ho provata adesso 5 minuti fa e funziona vi metto il video qui da parte perché ho già fatto questa cosa sono già stato fuori casa e ho già affrontato il rocket il rocket dico il singolo rocket perché dato che come vedete da qua da parte se voi perdete contro il rocket la missione va avanti comunque questo vale sia per la missione di zarude sia per le missioni di raflet missioni che adesso andremo a cercare perché hanno raccolte 3 prima di fare questi rocket e avendo perso cinque volte mi ha contato le missioni so che può essere divertente sentire questa cosa può essere può sembrare una cavolata ma immaginate di essere in un paesino con anche uno due poche stop comunque poca roba capite bene che trovando un solo rocket e perdendo cinque volte riuscirete a completare cinque sei volte per la missione di zarude riuscirete a completare la missione nel minor tempo possibile molto molto interessante questo bug a nostro favore per completare queste missioni nel caso e mi raccomando utilizzatelo se ne avete la necessità e finché non lo fixano mi è venuta in mente questa cosa perché anche nello scorso evento in uno degli scorsi eventi c'era una missione sconfiggi 3 rocket e bastava perdere per appunto sbloccare e fa andare avanti con queste missioni non mi ricordo più che evento era comunque noi facevamo così a un certo punto perché essendo imposti magari un po sperduti no ma comunque con una poca quantità di poche stop conveniva stare sotto un singolo poche stop utilizzare qualche vitalizzante in più chiaramente se voi revitalizzate i pokemon 10 pl che utilizzate 10 pl per fare nel minore tempo possibile potete utilizzarne anche altri chiaramente ma capite bene che ci mettete di più a perdere a farvi sconfiggere i pokemon fa ridere questa cosa ma può essere un glitch a nostro favore commentate ditemi se l'avete utilizzato ora torniamo in diretta con il gio in diretta in live adesso sto giocando appunto e questa è la schermata di gioco che sto facendo ora che sto usando ora cosa facciamo cosa facciamo io direi di fare primi check su rafflet che ne abbiamo tre e poi di eventualmente anzi senza eventualmente andiamo a catturare il pokemon di questo evento subito così dopo solo sono le 18.09 quindi sono passate otto ore dall'inizio dell'evento dopo solo otto ore catturiamo zarude ci sarà qualcun altro chiaramente che l'avrà catturato anche prima immagino ma comunque io ci ho messo queste ore vai primi tre check su rafflet anzi uno l'ho già fatto sono un birbantello ma questi sono i primi tre che faccio in video 1 2 vai primo rafflet per favore non prendi un cavolo devo attivare wifi tanto sono davanti a casa dio santo ma che sbatti wifi attivo vai ok primo rafflet non shiny 622 pl non ho idea di quanto sia il 100 ditemelo voi nei commenti anche se ci andrò a rivedere dopo questo video secondo rafflet non shiny 630 pl terzo rafflet si gode si gode quanto si gode tantissimo si ne ho fatti quattro al quarto che faccio shiny ragazzi chiusi completati perché ne ho già uno che vi ho fatto vedere prima che goduria mamma mia catturiamolo catturiamolo sto male incredibile no ragazzi non ci credo c'è veramente top veramente top ho trovato già il mio secondo rafflet sono emozionato dio eccolo qui lo valutiamo non so quanti pl è 12 no 13 attacco 13 15 15 veramente assurdo impazzisco ragazzi tutto questo chiusi rafflet adesso catturiamo zarude finita la missione tutto in otto ore da quando è iniziato l'evento sto male sto veramente male andiamo avanti andiamo avanti perché qui non è finita abbiamo i check da fare su questi non so se saranno check o altri pokemon intanto la connessione inizia ancora a far fatica diciamo si è ricollegato si è scollegato il modem è ripartito dall'altra connessione la rete normale che non va un cavolo sotto casa mia ma chi se ne frega ormai questo video è diventato una bomba ragazzi cioè con quella rafflet di shiny impazzisco ci ho messo un'ora per caricare uno schifosissimo ariados che andiamo a catturare con la bacca ananas con la bacca lampondorata scusate e con la ultra vol perché non voglio perdere tempo voglio far durare questo video il giusto ragazzi una decina di minuti o poco più mamma mia mamma mia quanto mi sono gasato quanto mi sono gasato c'è l'ana qui fuori che mi sta guardando malissimo non capisci cosa sto facendo ma dopo ti racconto l'ana intanto un butterfly che come ricordiamo nello scorso evento aveva il fiocchettino bellissimo e l'ho anche trovato shiny anche qui ultra vol con la bacca dorata perché lo catturiamo nel minor tempo possibile e andiamo poi a fare i check i check che non sono check perché non c'è la possibilità di trovare shiny questo nuovo pokemon rilasciato oggi e vediamo se salta fuori adesso o nella 5 su 5 che di solito è tutta completa al fronte a un pokemon un altro raflet che va benissimo ma benissimo così non non me ne faccio assolutamente nulla c'è mio fratello che fa il cretino con la spira polvere tutto in un unico video meno male che non si vedeva un altro raflet per noi e poi andiamo a catturare il pokemon zarude per concludere questo video bomba ragazzi veramente veramente top non so che titolo metter c'è troppa roba in sto video tra aver potenziato i pokemon catturare zarude trovare raflet shiny veramente che casino metterò tutto insieme vai allora eccoci qua completate tutte come avevo già preannunciato ma era molto facile questa cosa intanto la connessione fa cilecca e perde perdo ancora tempo in questo video che non finisce più chiedo scusa adesso passerò ad altro perché mi ha rotto le palle la connessione qua in paese sono davanti a casa c'ho anche il modem perché non si collega boh comunque catturiamo andiamo a rivendicare compense muoviti per favore 10 carmelle zarude completamente nere non si sa perché eccolo qui pokemon insolito non so i pl lo andiamo a scoprire assieme dopo un'ora zarude è apparso eccolo qui che lo andiamo a catturare se riusciamo con la baccana nas 1606 pl che bel tiro bruttissimo lo andiamo a catturare cercando di catturarlo con la pokeball ho deciso perché perché si lo voglio catturare con la pokeball ragazzi cercano di fare tiri decenti ma no non mi riescono adesso uscirà sicuramente ancora occhio ultime parole famose catturato benissimo con la pokeball e la baccana nas eccoci qua hai catturato zarude nuovo pokemon registrato e già catturato ragazzi facciamo una bella valutazione vediamo se abbiamo preso se abbiamo sculato anche a sto giro con la valutazione ho paura come sempre uno schifo assurdo ma va bene così primo di questi chiaramente zarude poi eventualmente si verrà rilasciato in altri modi shiny perché no saremo a vedere se troveremo qualcosa di più interessante per adesso 12 12 13 ci fa veramente schifo ma chi se ne frega ho trovato raflet shiny ho completato la missione sono contentissimo bene bene quella di meloetta che completerò c'è su rogerola e questo video termina qui ragazzi like commentate è successo di tutto in questo video lasciate like iscrivetevi fate le solite cose davide nico 92 su instagram venite a seguirmi ci vediamo in un prossimo video ciao